L'utente in questa sezione cosa trova? Trova dei database dedicati o alle capi come consumate effettivamente a casa nelle ricette tradizionali italiane in tutti i territori diversi italiani, sia un altro database dedicato ai saluti. E cosa trova? Trova un elemento in questo quando è consumato in una ricetta tradizionale perché il valore nutritivo cambia in maniera sostanziale rispetto all'alimento di per sé perché ci sono diversi ingredienti, apportatori di 9-10, altre vitamine, acidi, 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 quindi la ricetta nel suo insieme è una cosa più impressa e conosci ora i trattini, conoscerne il profilo nutritivo dell'utente è molto utile sia per il consumatore lo stesso che si sa anche qual è una migliore maniera per conservare i nutritivi all'interno del narice sia per i dietisti e i nutrizionisti che si apprestano a fare diete complesse.